Iro-Iro-Iro, Iro-Iro, Italia, Iro-Iro, Perù, Polombia, Venezuela, Sì signor, signora, sì signores, dopo tre anni tornano su questo grande palco escenico bellissimo, poi tra l'altro l'orchestra più famosa di Cuba, ma è un'occasione molto speciale questa, perché? Perché questa sera festeggeranno qui, in data unica a Torino, il 40 anniversario della carrera artistica di un grande maestro, il maestro Pugliel, Iro-Iro-Iro! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti